Siamo super tardi ma credo che... Siamo super tardi quando il Bello è venuto. Non so se si va a vederlo. Scusa? Non so se si va a vederlo. Siamo super tardi perché Chiara è una minchiona. Come ti ha colpito? Ma in che senso ti ha colpito? Ma in che senso ti ha colpito? Ha colpito la Ferragni, raga. Diciamo di morder una gamba la Ferragni sicuro. Cicciotto? Cicciotto? C'è lui che... Vai amore, vai amore. Cicciotto? Ma devi metterlo nel naso, se non usa sa... Maialotto? 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 Cicciotto? Noi, Raga mi sta mordendo la gamba. No, no. Ha tentato di mordermi una gamba. 123 Ha tentato di mordermi una gamba, comunque. Vai, Ciccione. Bravo. Guarda! Guarda come c'è un'isola, guarda come c'è un'isola! Io dico Dior tutto molto bello, però tipo due o trecessi metti che qua siamo a far la fila per pisciare. Ferragni e l'alpaca. In più c'è una sfida, oh mio dio, cos'ha detto? Raga comunque ditemi se non è uguale a Rovazzi, cioè è uguale a Rovazzi! Andiamo a comandare! Quando decidi di sposare la Ferragni e capisci che metà della tua esistenza la passerai a farle le foto. Ecco questa è la sua faccia, la mia non è così. Ovviamente non può mancare la foto con l'asino. Amore, si sta ben cazzando. Ecco spero che ti morda. Amore! No, stai facendo brutto la mia ragazza, vai che ti faccio brutto eh! Siamo in questo ranch alla festa di Dior, non so, e niente. C'è il maiale che si chiama Arnò, ciao Arnò! Amore! Amore, no, non sei brava. Può farlo. Vai! Attenzione Ferragni contro l'asino. Una sfida incredibile. Ferragni contro l'asino. Ferragni armata di iPhone, cerca di sfidare l'asino. No, attenzione! Attenzione! Il video più triste. Un po' di allegria, coppia allegria! Sadness in the rest! Sadness in the rest! Vai, 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 vai! Guarda dove vado! Wuhuuu! Ok, we got it! Vai, vai vicino! Ma amore, c'è paura, mi guarda male! Ma dai! Non dico quella robazza! Ciao! 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 Ma ha proprio visto la bocca che si apriva e diceva... No, no, quel cazzo! Cicciotto! Vai, vai, vai! Fate pace! Fate pace, amore, dai! Andiamo dagli Alpaca! Fai una pace col mare! Thank you, baby! Yeah! foиновico leaperie! Nome chiunque leaperie! Cicciohehehe! 먼저 con parking pelo museo! 来! Ch preguntas chinelotti.